Il fiore di Bach di oggi è elm, l'olmo. È il fiore adatto alle persone che sono sempre molto attive, molto energiche, si prendono un sacco di impegni e di responsabilità, ma poi a un certo punto è come se a furia di tirare troppo la corda, la corda si spezzi e quindi si sentono all'improvviso privi di energia, come se si fossero scaricati e quindi non ce la fanno più o comunque non si sentono più all'altezza della situazione, è come se tutti gli impegni che hanno loro non riuscissero più con le proprie forze, le proprie capacità a portarli a termine. Questo succede anche perché il tipo elm è una persona che non vuole delegare, vuole fare tutto da sé perché si sente più capace degli altri e quindi cerca di fare tutto da solo e questo naturalmente comporta poi stanchezza, stress e dispendio di energie. Allora con elm la persona comincia a riacquistare le energie perdute e nello stesso tempo comprende anche che deve delegare agli altri quello che è possibile delegare o comunque farsi aiutare nelle incombenze quotidiane.